Settimana di vacanza già volata via per il Lecce che da questa mattina è tornato allo stadio di Via del Mare al lavoro per la ripresa della preparazione. Mister Piero Braglia ha avuto modo di valutare lo stato di forma generale della truppa giallorossa che ha goduto di sette giorni di relax dopo il successo per 2-1 sul Benevento dello scorso 20 dicembre. E si è ricominciato a fare subito sul serio col tecnico Toscano che ha infatti fissato una doppia seduta di allenamento per la squadra Salentina. A parlare con i giornalisti al termine della prima sessione di allenamenti è stato il capitano Romeo Papini il quale ha ragguagliato tutti sullo stato di salute in generale del gruppo atteso dalla prossima gara di campionato contro la lupa Castelli Romani che si disputerà solo il prossimo 10 di gennaio. Papini ha garantito che la pausa ha permesso a Lecce di ricaricare le batterie dopo aver tirato a lungo la carretta dall'arrivo di Braglia sulla panchina leccese. Nei prossimi giorni la squadra farà un richiamo della preparazione quindi altra mini vacanza ma di appena un giorno e mezzo giusto per festeggiare il capodanno. dopodiché ricomincerà la settimana tipo che porterà l'ultima gara del genore di andata a Rieti. Immancabile la possibilità di fare un bilancio sul 2015. Un anno che tanto per il centrocampista romano quanto per il Lecce è stato difficile all'inizio mentre la seconda parte è cominciata con l'insediamento della nuova società ed un nuovo spirito. Per Papini questo gruppo è formato da amici prima che da calciatori ed è sulla buona strada con la squadra che appare in crescita.